Rieccoci nell'ultima parte di Primus Interpares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Stavo pensando prima a ricettare quando mi ha detto, ma lei ha già fatto questa domanda, lei ne ha fatta anche un paio, e le ho fatta una che lei non ricorderà, me la sono ricordata io, se aveva paura del virus oppure no, anche la volta precedente. La volta precedente è un po' vero, stavolta un pochettino di più. Ma penso che tutti noi abbiamo visto, io faccio una considerazione, a marzo, diciamo, ciascuno di noi aveva, ma forse un amico, una persona che conosceva che era stata colpita, adesso forse, adesso e anche chi lo era stato veniva guardato quasi come, insomma, adesso penso che nella nostra cerchia familiare, di amici, di cosa, quanti di noi hanno avuto persone che lo hanno superato, con fortuna, quindi questo rende consapevolezza che non è un discorso di cui si parla. Assolutamente vero. Senta dottor Franceschieri, un'altra delle cose importanti che lei ovviamente deve guardare con molta attenzione, ovviamente con questo periodo Covid la gente è diventata un po' più povera, moltissimi imprenditori hanno avuto delle difficoltà economiche gravi perché i ristori non sono stati sufficienti a coprire ovviamente le esigenze, questi imprenditori sono andati nelle banche, lei ha un rapporto anche con le banche, si sono ancora, tanti hanno preso delle decisioni drammatiche e drastiche, altri hanno chiuso l'attività, com'è la situazione sotto questo profilo? Beh, questo è sicuramente un tema preoccupante perché è ovvio che una società deve provare a mantenersi viva nelle sue fondamenta, insomma, e quindi in tutto quello che è le cose economiche. Secondo me dobbiamo distinguere, io almeno mi sono fatto questa percezione, una cosa è un certo tipo di attività industriale che onestamente diciamo ha risentito meno se non quasi nulla della crisi perché comunque certe parti del mondo sono ripartite, tipo per esempio la Cina, quindi chi aveva attività di export è riuscito a diciamo a bilanciare perlomeno in questa quindi una cosa sono le grandi medie insomma attività, una cosa ovviamente è il dettaglio e il piccolo. È anche vero che forse in questo momento si sono fatte anche delle scelte che probabilmente si sarebbero fatte magari fra qualche mese perché tante attività, diciamo gestioni artigianali o con l'età raggiunta dal titolare, insomma hanno fatto delle scelte anticipate. Il discorso dei ristori che è un argomento ovviamente importante. Sulle casse integrazioni onestamente c'è stata tanta richiesta di casse integrazione, dai dati IMSS, è stata tanta richiesta di casse integrazione concessa e poi per molti settori ne è stata usata anche meno di quella richiesta. Quindi questo lo voglio leggere come un segnale positivo perché evidentemente un imprenditore ha deciso di non attingere perché evidentemente poteva lavorare anche senza. Il discorso diverso è quello dei ristori, dei decreti per il risarcimento dei danni che ovviamente hanno probabilmente un limite, ma insomma sono scelte che ha fatto la politica e che noi non possiamo che è stato quello di prendere a riferimento alcuni periodi dell'anno che non è detto siano i periodi dell'anno migliori. Faccio un esempio per l'attività alberghiera. I periodi magari estivi della zona termale sono i periodi di bassa stagione, mentre invece i periodi di alta stagione sarebbero stati quelli di questo periodo, quelli invernali. Quindi è ovvio che aver consentito a certe attività di lavorare a giugno o a luglio sono stati meno importanti in certe zone rispetto che altre, insomma perché se il litorale magari con quei tre mesi di estivi ha potuto, tra virgolette, non dico respirare, ma almeno prendere una boccata di ossigeno probabilmente nella zona nostra termale questo effetto benefico è stato meno forte. La preoccupazione più grande personalmente io ce l'ho con marzo perché quando andrà, almeno se non verrà prorogata, a cadere la norma che vieta i licenziamenti e ovviamente tornando liberi i licenziamenti nessuno di noi è in grado di prevedere che cosa succederà. Certamente c'è stato un dato significativamente negativo che è stato quello del mancato rinnovo di tutti i contratti a tempo determinato. Tantissimi contratti a tempo determinato che andavano a scadere in questi mesi, diciamo dalla primavera in poi, non hanno trovato ovviamente rinnovo, ma è che è comprensibile perché se io avevo un cameriere in un bar o in un ristorante di questi periodi certo non gli ho rinnovato il contratto non sapendo fino a quando lavoravo. Con marzo dovrebbe andare a cessare questo blocco del divieto di licenziamento e quindi a quel punto entra in ballo tutto un altro mondo che è quello ovviamente delle attività industriali più grandi e quindi dovremo capire effettivamente che cosa porterà e questo è una sensazione, sarà un periodo di difficoltà ovviamente per le tensioni sociali che i licenziamenti sempre portano. Ecco ma sotto un profilo di imprenditori sono venuti molti da lei a chiedere aiuto? Guardi, sul divano della mia stanza si sono seduti sempre tutti e io ho sempre pensato che fosse giusto ascoltare tutti, dagli agricoltori che hanno avuto difficoltà grosse per la mancanza di manodopera perché è venuto a mancare tutta la manodopera che veniva dall'estero in genere e in particolare dall'est Europa e quindi diciamo i problemi loro, sono venuti ovviamente le associazioni dei commercianti, degli artigiani che in questi mesi attraverso questo strumento della videoconferenza abbiamo tante volte ci siamo confrontati anche senza una specifica occasione ma anche solo proprio per uno scambio di opinioni e quindi sicuramente la situazione con l'anno nuovo presenterà degli aspetti di criticità, io spero che però si possano superare con una ripresa un po' di tutta l'attività, ma perché questo succeda dobbiamo essere noi a darci una regolata, tutti noi, perché se lei guarda che per esempio focolai di infezione nelle aziende e nell'industria medio o grande praticamente sono stati pochissimi e anche dove ci sono stati sono intervenuti subito, ma io di questo do atto al sistema sanitario che è stato capace di tracciare e quindi di intervenire all'ufficio di prevenzione e igiene del territorio, però io do anche merito all'imprenditore stesso perché io penso che nessun imprenditore voglia che in casa propria succeda... Quindi controllo con molta attenzione? Ma certo, perché un imprenditore che vuole fare seriamente il suo lavoro non starà certo a lesinare su una mascherina o su un po' di gel, ma soprattutto farà in modo che la sua azienda abbia quelle regole, gli orari di ingresso differenziati, perché poi dove sono i momenti? vale per la scuola, ma vale anche per l'attività, quali sono i momenti in cui si crea l'assembramento? Lo spogliatoio, la menza, la macchinetta del caffè? Cosa che non successe dai fratti anche ieri? Ma è successo dappertutto, perché sono quelli i luoghi di assembramento, anche da me sono successi degli episodi ovviamente di positività e abbiamo dovuto mettere in quarantena fiduciaria chi aveva preso il caffè o la macchinetta nel corridoio insieme alla persona, cioè sono quelli i momenti, non quando stai seduto nella tua stanza o al tuo posto di lavoro, perché bene o male tutti i datori di lavoro, per primo ovviamente ci siamo preoccupati di aumentare le distanze, di mettere le pannellature, di dare insomma quel minimo di prescrizioni, a maggior ragione è un'azienda insomma grande, ecco, io mi sono fatto una grassa risata quando a marzo, lo racconto perché ormai è passato tempo, quando mi sono sentito dire che avevano fatto, avevano trovato tutto a posto, i controlli, ho detto bene ma dove siete andati? E mi dicono siamo stati dal gruppo stevanato da Carraro, onestamente mi è venuto da ridere perché io penso che aziende di quel livello non stanno certo a rischiare di dover fermare la propria attività per, appunto, perché un dipendente si è preso il Covid da là dentro, ecco, mi preoccupa molto di più magari qualche cooperativa della logistica dove lavorano paichistani. Ecco, in virtù di questo, dottor Francesca, mi ha fatto venire da fare questa domanda, ci cercano di evitarli assembramenti e si lasciano aperti i supermercati ovviamente per esigenze normali e non è un luogo pericoloso anche quello, anche se è scontrollato tutto, però nelle corsie delle… Eh beh, certo che sono luoghi pericolosi, infatti anche loro hanno dei contingentamenti di ingressi, hanno delle, diciamo, delle regole di sanificazione, ma siamo sempre lì, si può far colpa sempre, cioè è molto più facile, dico io, sanzionare il gestore del bar o del supermercato o di qualunque attività che non sanzionare il, diciamo, il singolo soggetto. Allora, è colpa del gestore del supermercato che non mette un controllore per ogni corridoio e sta lì a fare il vigile urbano o è colpa mia e sua che ci incontriamo al supermercato e ci mettiamo a chiacchierare nel corridoio? Anche mia e sua però, sì. Cioè, questo è il discorso, cioè, allora, o decidiamo che il nostro sarà un vivere in uno stato, tra virgolette, di polizia, chiunque abbia la divisa, che quindi qualcuno che ci controlla in tutta la nostra vita quotidiana, oppure dobbiamo darci una capacità di autoresponsabilizzazione che qualche volta, obiettivamente, tutti noi abbiamo visto. Sarebbe bello fosse così, ma penso sia la prima ipotesi, ognuno controllerà la persona vicina. Ma io non sono così felice di abitare, di vivere in un mondo di polizia, con tutto il rispetto perché ci lavoro e ci faccio parte, di controllori. Senti, in chiusura, dottor Faschier, adesso so che lei è molto sincero nelle sue risposte, mi dica una cosa che le ha dato, è brutto dire, non le è piaciuta, come mettiamo così, del 2020, invece quella che le è piaciuta di più. È difficile, beh, di cose che non mi sono piaciute… Tolto il Covid, tolto il Covid. Beh, non mi è piaciuta per una mia esigenza, come dire, caratteriale, non mi è piaciuto l'isolamento, ovviamente, non mi è piaciuto perdere l'occasione di vedere gente, di frequentare, di non andare a un teatro o un cinema, questa è la cosa che sicuramente mi è piaciuta meno. I momenti belli anche quest'anno ce ne sono stati tanti, insomma, a parte, voglio dire, il 7 febbraio, prima che tutto questo cominciasse, con la visita del Presidente della Repubblica, l'occasione a Vò, quando è tornato il Presidente per la scuola, insomma, ci sono state moltissime, moltissime occasioni. Ecco, guarda, abbiamo le immagini proprio di chi preparava la regia, me ne dica uno in particolare. Beh, diciamo che l'aspetto buono è che quest'anno mia moglie è stata con me a causa del Covid, mettiamola così. Non so se si è allungato il naso, non direbbe mai, sto scherzando. E il rapporto con la stampa, com'è qui a Padova? Beh, io sono troppo buono perché vi rispondo troppo anche al telefono, ma insomma, no, scherzi a parte, ovviamente non può che essere buono come lo deve essere per forza per chi fa il mio mestiere, perché comunque si ha il dovere. Posso essere, il merito è anche suo, dottor Franceschi. No, ma non è una questione di merito, io penso che chi fa un lavoro pubblico... I suoi predecessori non hanno così, insomma... Ripeto, forse glielo ho già detto... E non ho lasciato un buon ricordo, glielo dico io con lei. Forse glielo ho già detto che la cosa bella del mio lavoro è che da nessuna parte è scritto come si fa. E ognuno di noi lo fa col proprio carattere, le proprie simpatie, le proprie antipatie, i propri gusti. Quindi ognuno di noi ci mette se stesso e questa è la parte bella del nostro lavoro. Penso che chi fa un lavoro pubblico, come faccio io, debba avere la necessità di comunicare quello che fa, insomma. Non come un politico, nel senso che io non devo conquistare il consenso, ma penso di avere comunque l'obbligo di informare di quelle che sono le scelte che vengono fatte, di condividerle o anche qualche volta di esprimere qualche perplessità sulle scelte fatte. Poi ognuno si assume le sue responsabilità. Il prefetto non è un tuttologo, ha una competenza generale, ma non è un tuttologo. Quindi io non voglio, non mi ergo, ovviamente, a censore dei comportamenti altrui. Però penso che sia doveroso spiegare il perché si arrivano a certe cose o perché si fanno certe altre. Poi qualche volta mi arrabbio di qualche titolaccio urlato. Insomma, ho sempre chiesto a qualche direttore che mi doveva presentare chi era quello che faceva i titoli, perché secondo me deve cambiare spacciatore qualche volta, perché scrive delle cose che non rispondono alla realtà, ma capisco anche che la locandina qualche volta è più importante del contenuto. Però lei è determinato nel senso che chiama sicuramente per dichiarimenti. Senti, la sua squadra del cuore come va? Calcisticamente? Calcisticamente non ci lamentiamo. Abbiamo sofferto della perdita di Maradona, ma quello abbiamo pianto con tutto il mondo per la perdita di Maradona. Ma vincerà lo scudente oppure no? Non me lo sentirà dire mai, sicuramente lo vincerà qualcun altro. Lo vedo così. E senta, in chiusura, dottor Franceschieri, cosa chiede personalmente anche come uomo di Stato al 2021? Come tutti chiediamo serenità, ovviamente, penso che sia l'aspettativa di tutti. Sarà un anno complicato, sarà un anno di svolta, perché tutti ci siamo dimenticati che in questo momento difficile, nel momento in cui si elargiscono, perché indubbiamente ci sono state date risorse economiche che fino a ieri sembravano imprensabili. Abbiamo un dovere che è quello di spenderle, che sarà la difficoltà, secondo me, del 2021, cioè fare anche tutti questi fondi europei in arrivo, sui quali giustamente dobbiamo fare forte affidamento per un rilancio del Paese, però presuppongono una capacità di spendere e come Paese non siamo mai stati un grande esempio di spesa accorta e oculata. E dall'altra parte dobbiamo avere la capacità di far progetti che non siano mance distribuite, ma siano effettivamente volani di sviluppo. E su questo, come Paese, ripeto, penso che ci giochiamo anche una credibilità. Io lo so, perché ci ho lavorato, ci ho creduto, sono un forte e convinto assertore del valore dell'Unione Europea. Penso che in questo anno la tanto bistrattata Europa abbia dato un segnale invece di nuova presenza e di nuova vicinanza per i Paesi membri. Però a questo punto la palla è nel nostro campo, dobbiamo essere noi capaci di giocarcela. Insomma, qualche volta vedere certe discussioni fa un po' venire il dubbio che non saremo tanto capaci di giocarcela. Però mi pagano per essere ottimista e continuo a crederci. Mi sono dimenticato di chiedere una cosa proprio in chiusura, l'ultimissima. Prima le ho chiesto è felice? Le ha detto sì perché ho avuto mia moglie che l'ha avuto vicino. La moglie è felice, lei? Di averlo avuto vicino? E questo spero di sì, questo glielo chiede a lei la prima volta che la incontro. Certo, grazie, grazie dottore. Grazie a voi. È stato un piacere, buon anno, buon lavoro che sarà sicuramente un anno impegnativo da parte sua e io spero e auguro che rimanga a lungo a Padova perché è uno dei prefetti amato da questa città. Mamma mia. Grazie ancora, grazie ai nostri telespettatori, do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Interpars. Buonanotte. Grazie.